Ciao amici, benvenuti al mio canale! Io sono Isabel Love! Amici, oggi ti farò vedere le ultime due edizioni di Luglio! Amici, vi ricordate che in Luglio abbiamo aperto la Skipper e ora abbiamo la Barbie Basket e un bambolo piccolo, un fratello di Scelsi. Ciccocco! Apriamo il bambolo piccolo! E questo è il bambolo e questa è la di vita! Amici, guardate qua ci stanno le sirene e le possiamo, e le possiamo comprare in e Nicola! Qua per leggere, per leggere, per leggere, per leggere, per leggere, per leggere! Guardate amici! Qua ci stanno per giocare e qua ci stanno i stickers, un puzzle e qua altri stickers! Guardate amici, qua ci stanno tante attività per giocare! Guardate amici, qua possiamo unire il puzzle! Qua ci stanno le nuove bambole che sono in sorpresa! Qua ci stanno gli animali, qua c'è per scrivere una parola e questa è la Barbie Popografa! Guardate amici, questo è per fare una coroncina! Pierino! Ora apriamo il nostro bambolo! Guardate amici, guardate che belle scarpe, la corona è un principe! E poi guardate che belle, pantaloncino, c'è una maia! Amici, ora apriamo la nostra Barbie basket! Guardate amici, questo è per colorare! Prima guardiamo la rivista! Qua per leggere, qua per leggere, qua per leggere, qua per leggere! Guardate amici, questa è la Barbie che fa basket! Guardate amici, a me mi sembra che questa è la misma rivista di un altro giorno che abbiamo aperto la Skipper! Qua è il mismo poster! Guardate amici, queste sono le cose per fare l'estate, per come prendere un gelato, tomare il sole... In nostra prossima edizione esce la tennista! Guardate amici che bella bambola! Comprò subito! Dov'è? 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 Amici, questa tradizione della bambola viene con il campo da basket, la palla da basket e la bambola viene con un bel tennis, un bel short, una maglia e la medaglia! Amici, le bambola sono tutte diverse, come questa che ce l'ha un poco di viola, un poco di viola, come questa che è bionda, come questa che è bionda pure! Amici, questa è tutta la nostra edizione di luglio, suscrivetevi al mio canale e regalate un like! Ciao, ci vediamo alla prossima edizione! Ciao, ciao! Ciao!